Tre giorni di confronto fra pubblico e privato dedicati alle strategie per formare imprese responsabili che creano valore per le comunità in cui operano. Al Museo MAN di Napoli si è svolta la nona edizione del CSR MED, il Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa. Fra i temi affrontati spicca quello della sostenibilità delle imprese. Ho sempre ricordato a tutti che il tema della sostenibilità spesso viene associato al tema della sostenibilità ambientale. Noi pensiamo che la sostenibilità sia la difesa dell'ambiente che è sicuramente uno degli aspetti della sostenibilità, ma non è la sostenibilità. Noi diciamo nella sua definizione originaria la sostenibilità è una sostenibilità che è sicuramente ambientale ma anche sociale ed economica. Al sindaco Gaetano Manfredi è stato conferito il riconoscimento di ambasciatore della responsabilità sociale nel Mediterraneo. Il tema della sostenibilità, per chi conosce poi veramente la sostenibilità, è un tema che ha varie facce perché ovviamente noi dobbiamo lavorare sulla riduzione dell'impatto ambientale delle nostre azioni, ma la sostenibilità anche economica e sociale. Quindi garantire che ci sia inclusione, che ci sia spazio per i giovani, ci sia crescita e oggi questa è la vera sfida che noi abbiamo anche nella nostra città, come coniugare una crescita economica che si coniughi anche con l'inclusione sociale, con le opportunità per i giovani, con la possibilità di fare in modo che la nostra città finalmente possa essere protagonista rispetto a quelle che sono le tante sfide che abbiamo davanti.